Buongiorno Mi m'en dio Gaia, mi'en dio Dante Mi'en dio Maria Chiara Cantanas Cantanas Hai 14 anni Sett'anni Hai 11 anni Hai 10 anni Hai veci anni mese Scatter Cómo stas Cómo stas come stai, come stai, come stai, come stai, istu bene, mi stai bene, mi stai bene, istu bene, vente si es, la dove arrivi, la dove arrivi, vivo a Vinay, di Munte, habito a Deizun, mi resto a Vinay, ad Munte, Luper di Punte Bernale, Grazie a tutti!